Quando lui è arrivato a Roma, era 19enne, appunto è arrivato nel 39, la sua prima professione è proprio stata quella di disegnatore e io credo che la simpatia che aveva per me dipendesse proprio da quello, insomma nel vedersi forse qualche anno prima disegnare, infatti così per gioco mi trattava spesso, faceva spesso finta diciamo di essere colleghi e in questo caso, in questo gioco, in questa finzione, io ero addirittura quello con più esperienza perché ero da molti più anni di lui che disegnavo. Bene, ora ci fermiamo per la pubblicità ma torniamo subito dopo in diretta con tanti servizi e con l'ospite di oggi, Ivano Caradono.